Il nuovo sito internet di Orobia Online è un regalo che il mensile ha deciso di fare agli affezionati amici e lettori che, a loro volta, da anni ricambiano pubblicando splendidi reportage, foto fantastiche, gli itinerari, le notizie, gli eventi, un nuovissimo www.orobie.it che valorizza ancora di più le immagini, fotografie capaci di far vivere i luoghi e i momenti che si stanno apprezzando davanti al computer. La comunità virtuale di Orobia in questi anni è cresciuta e oggi si è fatta ancora più bella, ma anche più snella nelle sue interazioni, più dinamica e accattivante. Notizie, fotografie, eventi, albumi e itinerari sono le grandi sezioni che strutturano il sito per chi ama montagna e territorio. Noi con questo sito vogliamo chiedere ai nostri utenti di fare ancora di più, di aiutarci a fare da reporter, di pubblicare ancora di più, di scrivere testi, di scrivere itinerari, di spiegarceli e soprattutto con il nuovo sito adesso possono anche caricare dei video. Prima era un'esclusiva di noi della redazione, invece adesso attraverso un link possono caricare anche i video. Una finestra, quella di orobie.it, costantemente aperta su tutto quanto di bello e di casa in Lombardia. Da un lato alcuni nostri fotografi del sito, amici del sito, sono diventati fotografi ufficiali di Orobia e realizzano da anni diversi servizi. E dall'altro lato c'è una restituzione da parte della rivista con contributi extra legati ai servizi portanti della rivista. Noi pubblichiamo sempre magari qualche contributo multimediale che sul stampato ovviamente non possono trovare, interviste, foto inedite. Ogni mese c'è uno sforzo di approfondimento anche in questo senso. Un portale della montagna, del territorio, dell'arte e della storia da vivere a pieno.